Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Gogotò? Abù! I blues! Ehi, ma perché oggi tutti parlano in modo così buffo? Chi è che ha osato trasformare il mio laboratorio? In una cucina messicana! E cos'è questa puzza? C'è Coppi! C'è Chili Chef al villaggio! La famosa chef messicana conosciuta in tutto il mondo!